E' stato commemorato oggi, il giorno del ricordo, una solennità civile nazionale celebrata il 10 febbraio di ogni anno e istituita con apposita legge nel 2004. L'obiettivo è quello di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e riflettere sui massacri dell'esodo Giuliano Dalmata. Per l'occasione a Fano è stato dedicato un consiglio comunale straordinario che si è svolto al Teatro della Fortuna, alla presenza degli istituti superiori dei consiglieri comunali e dello storico Costantino Di Sante. Il presidente Renato Claudio Minardi ha aperto la seduta ricordando questa parte importante della storia dove tra il 1943 e il 1945 sono stati compiuti errori contro l'umanità operando di fatto una pulizia etnica. Serve sicuramente, dicevo, la cultura della tolleranza e la cultura del rispetto perché dalla tolleranza e il rispetto si alimenta la pace e si costruisce la pace. Vorrei ricordare le parole dell'emerito presidente della Repubblica Napolitano che ha parlato di silenzio, della congiura del silenzio, un silenzio omertuoso che sicuramente non ha aiutato a ricostruire questa vicenda. Non deve essere solo un rito, una cerimonia, detto Minardi, ma deve essere anche un momento nel quale approfondire la vicenda facendo luce sugli avvenimenti spesso taciuti da chi politicamente ha permesso che migliaia di italiani venissero gettati nelle cave carsiche. Poi la parola è passata a Samuele Mascarin. L'assessore alla memoria si auspica che giornati come queste siano solo l'inizio di un impegno sociale forte. Solo così, ha detto, saremo in grado di costruire un nuovo mondo condiviso e capace di parlare al futuro. L'impegno che oggi in qualche modo abbiamo provato a condividere è stato quello di un futuro dove queste parole, nazionalismo, guerra, dittature siano bandite una volta per tutte. A ricostruire poi le fasi di questa pagina di storia che sino dieci anni fa è stata ignorata è stato il professor Costantino Di Sante, direttore dell'Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino. Un pezzo di storia che è stato nascosto per 60 anni. Perché questo? Le motivazioni sono diverse. Sicuramente furono delle scelte politiche dei governi che si seguirono nel dopoguerra, anche condizioni geopolitiche dentro la guerra fredda e sicuramente voler parlare della tragedia delle foibe e dell'Esodo voleva dire anche parlare di tutta una serie di aspetti che avevano coinvolto gli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ultime l'occupazione nei territori balcanici e i crimini di guerra commessi anche da noi italiani. Sindaco, secondo lei qual è la vera sfida oggi? La vera sfida è quella di ricercare una storia condivisa. Perché questa è la forza. Non bisogna mai avere paura di raccontare attraverso la storia la verità. Anche quando può essere scomoda ad una nazione, ad una popolazione, ad una forza politica. La libertà è dire la verità. Allora questo è il messaggio che ho voluto trasmettere ai ragazzi. Per cui queste giornate siano giornate di riflessione, di comprensione, di presa di coscienza. Soprattutto per evitare che certe atrocità, certi errori si possano ripetere in futuro.